Il più bel pensiero che ci possa essere? Il capitano suo e della Juventus? Capitano di tutti. Una dote di vialli che le è rimasta nel cuore? Questa, la capacità di farsi voler bene da tutti, di farsi stimare da tutti, di essere un leader in campo, fuori dal campo, sempre.